Cari amiche e cari amici, adesso vedremo qualcosa di molto inquietante. È il 28 febbraio 2013. Papa Benedetto aveva pronunciato la sua rinuncia al papato in latino che in realtà non ci fu mai. Di questo ne parleremo in altri video, perché Papa Benedetto ancora oggi è il Papa. Comunque si sta congedando dai cardinali nella sala Clementina e c'è il cardinal Bergoglio che appena si rende conto di essere inquadrato fa un saluto con il braccio destro ai suoi fratelli massoni. Tutto è compiuto. Il tradimento è fatto. Guardiamo insieme. ...quotidiana e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può togliere. Prima di salutare i personali... ...specialmente nell'eucaristia quotidiana. ...e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può togliere. Prima di salutare i personali, desidero dirvi che... ...questo gesto inquietante è l'inizio del trionfo della massoneria in Vaticano con il falso Papa Jorge Bergoglio.